E' il derby d'andata, il derby d'andata che arriva subito, subito dopo la sosta per le nazionali e il derby d'andata che si gioca da calendario in casa dell'Inter, quindi si chiama Inter Milan ma è chiaramente tutta una città, tutto uno stadio, tutto un patrimonio di storie e di colori che si divide in due Thuram alla meglio, Thuram riesce ad andare ma Malik gli si frappone, finisce a terra Malik, non c'è fallo non c'è fallo, palla in mezzo, palla in mezzo, ancora pericolo, ancora pericolo Thuram, la palla passa, Di Marco, il tiro, la deviazione, il gol subito palla allargata verso Di Marco, Di Marco va al cross, ancora il colpo di testa, la palla esce enorme occasione per Mkhitaryan, facciamo fatica manca la pericolosità, manca la spina conficcata, bello il colpo di tacco per Teo Teo, arrivi di gore, Teo, Teo, fuori, grande azione, enorme occasione nostra enorme occasione nostra, eccola l'azione pericolosa, riparto loro, attenzione ragazzi attenzione, eccolo qua, Teo deve andare su Dunfris, Dunfris cerca subito il passaggio lungo palla lunga per Thuram, Thuram in seguito da Malik Malik, 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 il tiro, incredibile gol del 2-0 dell'Inter con Thuram e va bene ragazzi, che cosa volete che vi dica Teo in buca per Giroud, 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 cerca Leao, 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 Leao gol, Rafa in gol, e finalmente ne facciamo uno, e finalmente ne facciamo uno, sì, Rafa e almeno uno l'abbiamo fatto, dai ragazzi, dai ragazzi, dai ragazzi Eccolo Mike, va col dosaggio giusto verso Rafa, Rafa dentro per Teo, ma c'è l'anticipo di Darmian, riparto loro, qui ci siamo fatti un po' fregare, dovevamo giocarla meglio adesso attenzione Lautaro Martino e Zucchia, Lautaro Martino e Zucchia, Lautaro Martino e Zucchia palla dentro, è libero, è libero Mkhitaryan, è libero, ancora gol, clamoroso, ancora gol e imbacchiamo acqua ragazzi, imbacchiamo acqua allontana, rigore rigore adesso la sfiora, mani hanno la palla entra Zucchiazza attaccato, due su di lui, Sozza lascia giocare, Pioli si arrabbia altro contropiede altro contropiede Mkhitaryan dentro eccolo là eccolo là quinto gol loro finisce finisce la partita per noi è una brutta disfatta ciao a tutti ciao a tutti